Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Die della luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori, che per nottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro, non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lo dava Dio e diceva, gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini, che egli ama. Parola del Signore. Natale è la festa della luce che si viene a trovare proprio dopo il sostizio d'inverno, quando i giorni incominciano a riallungarsi. È la luce che vince il buio, che vince le tenebre. Gli antichi lo avevano capito, festeggiamo nel sole vincitore. I cristiani festeggiano la nascita di Gesù, vera luce del mondo. Ma questa luce del mondo dove si accende? Si accende in una paesino dell'estrema provincia del grande impero romano. Non si accende nei palazzi dei potenti, non si accende in un luogo famoso, si accende là dove forse c'è più buio, là dove c'è più bisogno di luce. In una grotta, come cantiamo al freddo e al gelo, ma diventa, per chi ha il cuore semplice, come i pastori, una vera fonte di gioia. Vi annuncio una grande gioia, dice l'angelo, che sarà per tutto il popolo. Vi è nato un salvatore e il segno è questo, un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Chi può salvare un bambino neonato? Un bambino avvolto nelle fasce che già preannunciano le fasce del sepolcro, dove sarà sempre in una grotta deposto del corpo del Signore dopo la sua morte. Che annuncio è quella di un Dio fragile, di un Dio che ha bisogno di cure invece che di curare? Ha bisogno della mamma che gli dia il latte, ha bisogno del calore, del bue, dell'asinello, come diciamo nel presepio. Un Dio che ha bisogno di cure, ma è proprio questo che ci salva. È il fatto di sentire accanto a noi un Dio che condivide la nostra fragilità e non ci fa vergognare delle nostre fragilità. Un Dio che scende nelle nostre grotte, nei nostri inferi, cioè là dove c'è più buio nel nostro cuore. È lì che nasce Gesù se noi lo andiamo a cercare. Lì perché lui non ha paura del buio, lui è la luce. Lui non ha paura del freddo, non ha paura del peccato. Lui è la vittoria, lui è il perdono, lui è l'amore. Un Dio fragile davanti al quale nessuno ha più paura. Perché un bambino neonato non fa paura, fa tenerezza, fa desiderio, fa dolcezza. Ecco Dio che cosa ci chiede, di essere capaci di guardare anche le nostre fragilità e di affidarle a quel bambino, di ritornare a essere semplici, poveri nel cuore, non poveri di amore. Poveri nel senso di aperti a Dio, di non autosufficienti, di non ritenerci noi i signori della nostra vita, ma di affidarla a quel bambino per imparare da lui come si ama, come si vive, come si spera, come si soffre e come si muore per entrare nella pienezza della luce. Perché lui è venuto qui proprio per questo, perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che il Natale sia un momento di gioia per tutti, perché possiamo scendere però nel silenzio, dentro il nostro cuore, dentro i nostri inferi, anche là dove è più buio e ritrovare quella luce, quel sorriso di bimbo che non fa paura a nessuno, ma che per chi lo sa guardare diventa il salvatore del mondo. Buon Natale, buona nascita a una vita, una speranza, a una gioia nuove. Grazie a tutti.